Ma intanto si tratta di una decisione assolutamente personale, quindi non è diretta contro nessuno. Io ritengo che il PD abbia di fatto esaurito una sua funzione storica di rinnovamento che si è esaurita secondo me la sera del 4 dicembre del 2016, cioè con la sconfitta del referendum. Già da quella data secondo me bisognava procedere verso la costituzione di un nuovo soggetto politico che andasse oltre il Partito Democratico. Il partito oggi è sostanzialmente senza guida, senza prospettive, ha smesso di anticipare la realtà, la subisce e basta. E questo credo sia un elemento dal punto di vista politico gravissimo, perché l'anticipo in politica è la qualità fondamentale di un partito. Non nego anche alcune amarezze personali che mi hanno riguardato in modo particolare negli ultimi tempi, perché io che sono stato forse il primo del nuovo corso del PD Renziano in Lucchesia, ricordo che il primo comitato Renzi fu inaugurato a Porcari, se ricordate anche voi probabilmente. E questo mi ha portato qualche amarezza in una mancata considerazione veramente grave, secondo me, e veramente discutibile. Però questo è un elemento marginale. Ripeto, non condivido più questa linea, sono convinto che bisogna andare oltre, altrimenti non c'è futuro e l'attraversata nel deserto non finirà mai. Ma io non lo so alla mia età che cosa potrò fare sicuramente. Seguo naturalmente, con attenzione, sto un po' alla finestra, ripeto. Io credo, per fare un esempio molto banale, non so se qualcuno di voi ricorda la marcia dei 40.000 negli anni 80. Ecco, io credo che ci sia bisogno oggi di una nuova marcia dei 40.000 contro un governo che farà sicuramente danni enormi al paese. Ecco, mi piacerebbe essere uno di questi 40.000.